Allora Bobbon è andata male, abbiamo perso 3-1 questa semifinale con Modena, lottando, giocando, però è mancato qualcosa no? È mancato, abbiamo giocato dal mio punto di vista senza tre battitori, lì diventa molto difficile, abbiamo cercato, abbiamo voluto e questo infortunio di Russell ci sta pensando troppo perché penso che abbiamo buttato i punti durante partita in campionato contro Macerata e stasera abbiamo buttato una finale, abbiamo giocato alla Pari con una squadra di alto livello ma penso che in queste ultime due partite abbiamo fatto vedere che noi ci siamo, manca questo e io spero che lui guarisce più presto perché è normale ogni tanto di non giocare al 100% ma purtroppo io in questo momento non ce lo cambio. Ascolta, sono d'accordo, la differenza in battuta c'è stata, abbiamo fatto molto bene secondo me muro difesa, limitando Modena insomma dai grandi attaccanti, poi un po' bisogna sopportare dei momenti, delle folate degli attaccanti, però abbiamo fatto bene muro difesa, dicevo col Bira forse quel quarto set si poteva trovare il guinzo per portare l'alti break poi poi giocarsi. Ma guarda, se tu vedi abbiamo avuto la palla forse non ricevuta perfetta, noi abbiamo fatto paleggio, d'altra parte loro avevano questa palla e tiravano la palla, giusto? Quella è un po' la differenza, quella fame di vicere l'hanno avuto in momenti importanti più di noi. Ascolta, l'ultima cosa, adesso si torna a lavorare, insomma, a Macerà a Civitanova e stasera, come hai detto te, abbiamo visto che ci possiamo stare, insomma, no, ci manca qualcosa, questo è vero, ma ci possiamo stare con le più forti del campionato, bisogna lavorare per cercare di raggiungerle. No, ma penso che lavoriamo, ci vuole che siamo tutti al completo, dico, io non trovo alibi, oggi hanno vinto loro, ma potevamo fare qualcosa di più, potevamo, lo sappiamo che questo Russell è un giocatore di alto livello e oggi mancava, mancava, non perché a Denis e a Fromm non sono, hanno dato tutto, ma con questa partita tirata, loro mettevano fuori, giusto, Petric, entrava, come si chiama, Nikic e facevano qualcosa. Con noi è un po' difficile perché se molte a scacciare è bravo, ma purtroppo in ricezione non è ancora pronto e lì è stata differenza. Ok, grazie Bobo.